Allora, andiamo all'ultimo blocco, come al solito gli ultimi devono correre di più. Ci sono altre forme, non solo le wildflowers, ovvero le wildflowers si possono inserire, il ripristino del verde, la ricomposizione del verde si può fare anche in tanti altri modi. E qui abbiamo qualcuno di questi, anche l'agricoltura, c'è un filone dove wildflowers e agricoltura si possono sposare. Quindi incominciamo con Lorenza Colletti, Corpo Forestale dello Stato, lei è la responsabile dell'ufficio territoriale per la biodiversità di Roma. Quindi, Lorenza. Allora, cercherò di essere rapida e di urlare senza microfono così... Perfetto. Allora, Corpo Forestale dello Stato, alberi, boschi e non solo. Abbiamo al nostro interno l'ufficio biodiversità, che ha più o meno 190 anni di storia, quindi ci occupiamo di boschi, ma anche di altre cose, protezione della natura e didattica ambientale. Queste due cose in particolare le fa l'ufficio di cui sono il capo. E vi vado a mostrare velocissimamente alcune immagini e alcune esperienze di uno dei centri che sono diretti da me. Questa stranissima immagine è uno dei paesaggi più antropici che si possano immaginare, molto particolare. Non è una città, sono delle saline, praticamente le uniche del Lazio, sono le saline di Tarquinia. Se c'è un ambiente antropizzato, artificiale, contaminato in mezzo a due centrali elettriche e compagnia bella, è quello. Eppure, pensate che questo impianto qui è stato costruito, praticamente inaugurato nel 1805 dallo Stato Pontificio. Si produceva il sale, si ne produceva tantissimo, d'inverno c'era l'abbandono degli impianti, perché il sale non si produceva, e si riempieva di biodiversità, soprattutto di animali, fenicotteri, tanto per dare un nome. Ed era talmente un miracolo questo della biodiversità così particolare di questa zona, che nel 1980, quando ancora si produceva il sale, è diventato riserva. Quindi questa è una riserva naturale statale, gestita dal corpo forestale dello Stato e in particolare dal mio ufficio. Un ambiente quindi antropico come pochi. Com'era prima, quando si produceva il sale? Era così. Sfido voi a trovare qualcosa di vegetale, di naturale in questo ambiente lunare. C'erano quattro, dico quattro, pini e eucalipti piantati per fare un po' d'ombra a qualcuno, il resto erano delle vasche per la produzione industriale del sale, che d'estate venivano asciugate, seccate, raspate, proprio quanto di più innaturale, per quanto utile, questo faceva il sale per Roma, quindi non c'erano frigoriferi, non c'era niente, era essenziale. Però chiaramente era un ambiente in cui la vegetazione non aveva posto, veniva tolta. D'inverno comunque arrivavano gli uccelli nelle vasche piene dell'acqua, ma la vegetazione non c'era più. Il corpo forestale dello Stato è eredita questa riserva e comincia a farla tornare indietro. Le vasche, le cose storiche vengono mantenute, perché fanno parte del patrimonio di tutti, però soprattutto nelle aree verdi e retrodunali si comincia a ricostituire quello che era l'ambiente che c'era una volta lì. Quindi utilizzando soprattutto arbusti dei nostri vivai, una volta ce ne avevamo tanti, adesso ne abbiamo solo otto, utilizzando soprattutto quest'inverno le piante dei vivai che producono specie mediterranee, abbiamo cominciato a ricostituire per fini naturalistici e didattici quelli che era la macchia retrodunale. Quindi nella zona più verso il mare, verso il mare filiree, mirti, comunque piante più resistenti al sale, nelle zone più interne specie più evolute che si adattano meglio alle zone con meno difficoltà. La cosa più importante, l'immagine più importante che è esattamente relativa a quello che viene detto nel convegno, qui non c'è perché l'ho scattata due settimane fa, la presentazione è precedente. Quest'immagine d'inverno vi fa vedere le piante piantate, bello pulito, prato sistemato e compagnia bella. A maggio è venuto su 75 centimetri di tutto, meraviglioso, bellissimo, fioriture di gladioli, di composite, di margherite, c'era di tutto dentro. Noi avevamo la festa della riserva, che fare? Tagliare o non tagliare? Abbiamo fatto esattamente quello che il collega agronomo ha detto prima, in modo intuitivo. Allora, sentieri, fasce tagliafuoco, spiazze utilizzate dai turisti, puliti a zero. Tutto il resto abbiamo lasciato la vegetazione spontanea, alta, bellissima, che c'era in natura. Quindi, volete vedere com'è la situazione adesso in riserva? La riserva è aperta la seconda domenica del mese al pubblico. La seconda domenica di giugno venite su e vedete quello che c'è, per quello che riguarda questa riserva. Altre cose in generale, per l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Roma, abbiamo vari centri, l'Ufficio si compone di quattro centri, dei quali uno a Castelfusano, che fa didattica. Tra questo e gli altri raggiungiamo almeno 10.000 studenti l'anno, che è l'unico modo per cercare di cambiare la percezione, la mente. Faticoso, costoso e ci vuole tempo, non c'è altro modo. Quindi, se vogliamo fare, parlarne anche con noi, con noi dell'Ufficio di Roma, progetti didattici in una delle nostre sedi, dove stiamo tagliando sempre di meno perché non ci sono più soldi, ma i risultati sono bellissimi. Effettivamente, far di necessità virtù, ma io sono molto contenta dei risultati personalmente. Quindi, progetti pilota, parliamone, non c'è problema. Facciamo didattica, io spiegherò ai miei, passerò quello che è il messaggio del manuale, che viene presentato qui. Tanti già lo applicano, tanti lo sentono, tanti non lo condividono. Passerò il messaggio. Parliamone ancora e soprattutto, pensiamo a quello che è stato detto già da alcune persone, i nostri giovani soffrono di DDN, deprivazione da natura, si chiama proprio. C'è una patologia. I bambini che crescono nell'ambiente urbano, nel centro commerciale, nei fast food, che non apprezzano pure la natura, ma soffrono e non lo sanno nemmeno. Quindi, tutto sommato, il nostro obiettivo comune è quello di combattere questo strano DDN che mina un po' quello che è il futuro dei nostri figli. Grazie.